Si è insediato questa mattina il nuovo presidente di sezione del Tribunale di Vibo Valencia. È il giudice Tiziana Macri, 53 anni e proviene dalla sezione Jeep Group del Tribunale di Catanzaro dopo essere stata giudice della prima sezione penale dello stesso tribunale. La cerimonia ufficiale di insediamento si è tenuta presso l'aula Emilio Sacerdote del Tribunale di Vibo Valencia. Sono felice, sono felice, emozionata, sicuramente spero di poter fare un buon lavoro. Mi auguro, questo sarà il mio impegno, ho dedicato tanti anni al servizio del Tribunale di Catanzaro ma proprio con devozione. Mi auguro di poter fare anche di più in questa sede che è una sede sofferta, però già me ne sono innamorata. Chiaro che la bacchetta magica non ce l'ho, ma certamente ho voglia di lavorare, ho visto che ci sono giovani colleghi davvero pieni di entusiasmo e questo penso che sia una risorsa. Farò del mio meglio. È chiaro che ci saranno delle priorità, i detenuti, i processi di diavra hanno la precedenza, tutto il resto verrà affrontato col massimo impegno. Questa è l'unica regola che conosco, quella che ho applicato in tanti anni di servizio presso il Tribunale di Catanzaro. Tiziana Macri arriva a coprire un posto che era ormai vacante dal settembre dello scorso anno, quando il plenum del CSM aveva deliberato il trasferimento di Lucia a Monaco alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. E' questo solo un primo tassello dei tanti scoperti a Vibo Valencia, celebrato con soddisfazione dai tanti colleghi giunti per l'occasione da tutta la Calabria. Procuratore, oggi è Vibo per suggerire un momento importante per questo Tribunale? Oggi è un giorno importante di festa, però ancora dobbiamo aspettare altri due giorni importanti. C'è la nomina, l'insediamento del Presidente del Tribunale e poi la nomina del Procuratore di Vibo. Questa è l'attesa del Procuratore di Vibo, è un fatto importante e necessario? Ma è importante per la collettività, è importante per noi anche come Procuratore di Strettoare, perché speriamo sicuramente verrà un magistrato esperto, un magistrato di grande esperienza, come merita la provincia di Vibo. E' un momento per la magistratura non semplice? No, perché? Perché? No, tranquillo, ognuno risponde alle proprie azioni. Per quanto riguarda invece il Presidente del Tribunale, si aspetta solo che la burrasca al CSM si attega. Il nome c'è già, designato all'unanimità. Si tratta di Antonio Erminio Di Matteo, 60 anni, originario di Cittanova e proveniente dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Ci Cassetti, tutti, tutti. E' un valut manage.